Un narcotrafficante, ritenuto elemento di spicco di un clan camorristico del Vesuviano, Adriano Manca, di 34 anni, sfuggito dall'arresto alcuni giorni fa, è stato rintracciato e bloccato dalla Guardia di Finanza nel retro bottega di un bar di Torre del Greco in provincia di Napoli, trasformato in alloggio per ospitare la sua latitanza. Insieme a Manca è stato anche arrestato il titolare del bar, accusato di favoreggiamento. Manca è accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope. Quando i finanziari hanno fatto irruzione nel retro bottega del bar, Adriano Manca non ha opposto resistenza, rinnegando però più volte la sua reale identità. Era latitante dallo scorso 16 luglio. Il suo alloggio era dotato di tutti i comfort, dal televisore ai generi alimentari di ogni tipo.